Sesta edizione di Leifestival, un tema coraggioso, amare come rivoluzione e trasformazione. Come lo declinerete? L'abbiamo pensato di leggerlo sulla base proprio di quella che è la capacità di questa emozione, che è amare, sulla base della possibilità di trasformazione che questo sentimento porta. Abbiamo invitato Leifestival è un festival di promozione della lettura, quindi abbiamo invitato una serie di scrittori, soprattutto di filosofi, che ci racconteranno il tema proprio seguendo questo filo, il filo della trasformazione, che è sia interiore ma può essere anche legato alla coppia, così come può essere legato alla possibilità di trasformazione di una comunità. E quindi ne parleranno con noi Umberto Galimberti, Maura Gancitano e Andrea Colamedici. Lo vedremo anche dal punto di vista della spiritualità, della potenza spirituale del sentimento attraverso la pratica della meditazione, con lo studioso di spiritualità Macei Bielaschi. Ci saranno una psicologa che lo leggerà invece attraverso il fumetto, che è Roberta Guzzardi, che racconta dei nostri mostri interiori e delle nostre paure. E poi ci saranno tutta una serie di workshop dedicati alla filosofia e alla psicologia, in cui potremo approfondire con psicologi, filosofi e educatori questo sentimento, che è appunto amare. Ci saranno poi un incontro particolare con Enrico De Regibus, che è il biografo di Francesco De Gregori, e dalle canzoni di Francesco De Gregori partirà così lo spunto per l'analisi dei testi e per sapere appunto cosa c'è dietro la costruzione di queste opere, che sono le canzoni di De Gregori, che sono artistiche. Inoltre ci sarà un bellissimo incontro con la giornalista Simonetta Fiori, che presenterà, che parlerà del libro che ha composto tramite le 30 interviste a una serie di coppie famose, in cui l'amore non è più qualcosa di lineare, ma si sviluppa e si ramifica in tantissime possibilità. E ne discuteremo insieme a lei e a uno, lo psicanalista Alfredo Camera. Non solo Cagliari, ma anche Sassari e altri centri della Sardegna, ma ricordiamo a Cagliari la novità per questa sesta edizione del festival? Allora, questa sesta edizione nasce dalla volontà proprio dell'incontro. Amarsi come sentimento esplosivo dopo tanta separazione, e per questo abbiamo trovato la location che noi pensavamo adeguata, il Teatro d'Oglio, che è stato abbandonato a Cagliari per 37 anni, adesso è stato ristrutturato, e ci consentirà di accogliere gli autori, gli scrittori e il pubblico. Ci sarà poi una serata speciale con un spettacolo, un reading di poesia, del poeta Guido Catalano, che forse conoscono anche, è abbastanza conosciuto, e i suoi reading sono sempre molto divertenti, e trattano il tema dell'amare con forza, ma anche con leggerezza.